Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo podcast del mio progetto Glam Liguria. Sono Flavia Cantini e oggi andiamo a scoprire la celebre Alassio, che a me piace chiamare la Hollywood di Liguria. Infatti, arrivando dalla strada Aurelia, a un certo punto, prima di arrivare in Alassio, troverete proprio la scritta Alassio sulla collina, come si trova la scritta Hollywood a Hollywood, quindi mi piace chiamarla così. Allora, partiamo! Una delle mete più conosciute e apprezzate, appunto, della riviera Ligure di Ponente, senza dubbio Alassio. Affascinante meta glamour, perfetta per una vacanza al mare e da sempre amata dal turismo nazionale e internazionale. Comodamente raggiungibile, appunto, via autostrada, seguendo l'Aurelia di cui vi ho appena parlato, oppure con il treno grazie alla stazione ferroviaria attualmente, ancora a pochi passi dal centro. Se vi state chiedendo cosa vedere ad Alassio, cercherò, in questo podcast, di soddisfare la vostra curiosità con la mia esperienza da Ligure. Come non iniziare dal celebre Muretto di Alassio, simbolo della città degli innamorati. Tra le mete Alassine più rinomate nasce negli anni 50 dall'idea di Mario Berrino, proprietario del Caffè Roma, lucicante punto di ritrovo del jet set internazionale che sceglieva Alassio come meta di vacanza. Berrino, rinomato pittore, osservando lo spoglio muretto dell'imitazione del giardino pubblico dinanzi al suo locale, intravide la possibilità di dare vita a qualcosa di unico. E fu così che, grazie all'aiuto di Hemingway, assiduo, cliente e amico, decise di riportare su Mattonella in ceramica l'elenco di autografi dei famosi ospiti del suo locale e arricchire quello che sarebbe diventato negli anni il Muretto di Alassio. Oggi, quel muro anonimo e grigio è un'imperdibile attrazione turistica, con più di mille piastrelle su cui sono ben riconoscibili gli autografi di celebrità italiane e internazionali, la statua degli innamorati colorati mosaici, graziose sculture e la corona del figlio del duca di Sassonia e della moglie dell'Asia, solo per fare alcuni esempi. Ad Alassio non può poi mancare una passeggiata lungo un altro simbolo della cittadina, il budello, ovvero la stretta e la strecata via che percorre il centro storico parallela al litorale. Percorso tipico dei borghi marinari di Liguria, il budello di Alassio si estende dal borgo Koscia fino alla passeggiata Ciccione ed è impreziosito dai migliori negozi e boutique del Ponente, vero paradiso dello shopping di qualità. Negozi delle migliori marche, brand alla moda, negozieti di artigianato locale e prodotti di nicchia, pasticcerie, dove assaggiare i prelibati, baci di Alassio, panetterie dove lasciarsi tentare dal profumo della focaccia, insomma passeggiare lungo il budello è veramente un'esperienza da vivere. In centro di Alassio spicca anche un gioiello come la chiesa di Sant'Ambrogio, risalente all'undicesimo secolo e successivamente ricostruita durante il diciassettesimo secolo fino ad ottenere l'attuale eleganza. La chiesa si frege del felice incontro tra lo stile romanico e il barocco, elemento architettonico che la distingue rispetto agli altri edifici religiosi di Alassio. L'interno di una bellezza mozzafiato ed emoziona con la suggestiva volta centrale affrescata con episodi della vita di Sant'Ambrogio, svariati a freschi, il tabernacolo in pietra nera di fine 400 e le tre navate centrali con dipinti di De Ferrari. Ma non soltanto, perché l'antica sacra tradizione musicale e corale si svela nella presenza di due invidiabili organi a caglio. In ogni stagione non può mancare una piacevole e rigenerante passeggiata sul lungomare Alassino, con lo sguardo rivolto alle distese di sabbia bianca e fine, all'azzurro del mare cristallino e all'isola gallinara sullo sfondo. Dal lungomare si raggiunge, a piedi o in bici, anche la vicina Laiguelia, tra i borghi più belli d'Italia, che merita veramente più di una visita, e il capo di Santa Croce, punto panoramico dove si erge una piccola cappella da cui ammirare la meravigliosa costa. La marina, invece, è attrezzata con tutti i servizi essenziali dei porti turistici e consente di ormeggiare barche in transito fino a 35 metri di lunghezza. Qui si trovano il Diving Center per l'organizzazione di immersioni subacquea alla Gallinara e scuole di vela per bambini adulti. Poi, una delle meraviglie della riviera, come disse William Scott, i giardini della Pergola sono la meta ideale per gli amanti delle atmosfere romantiche e l'incanto della profumata flora mediterranea. Realizzati nell'Ottocento e divenuti celebri grazie alla famiglia Emburi, i giardini di Alessio regalano uno splendido panorama sul mare. Essi estendono su una superficie di 22.000 metri quadri. Passeggiando lungo il Parco Botanico, verrete sorpresi da percorsi, impreziositi da olivi, pini marittimi, oleandri, una ricchissima collezione di agrumi, gersomini, mandorli, cipressi, lecci e svariati altri esemplari in un tripudio di profumi e colori. Da non perdere, la collezione di Agapantus, unica in Europa, per varietà e numero, con oltre 450 specie dai colori del cielo e del mare, e la collezione di glicini, che vanta più di 32 varietà di piante. Concludiamo questo viaggio ad Alessio con l'isola Galinara, che si fa ammirare al largo della costa, una delle cinque isole Liguri, dall'inconfondibile forma a Tartarucca. Sito di interesse comunitario, riserva naturale protetta, l'isola custodisce un ambiente incontaminato e testimonianze archeologiche dal grande valore storico. La torre di avvistamento genovese, l'antico monastero colombiano e poi benedettino, la cappella votiva di San Martino da Tours, vissuto qui come remita, e le gallerie scavate durante il secondo conflitto mondiale. I fondali, poco profondi, sono perfetti per lo snorkeling e le immersioni. Punti ottimali per immergersi sono punta Shushau, dove esplorare i suggestivi fondali intorno all'isola, e punta Falconara, per scorgere anche la statua sommersa del Cristo Redentore degli Abissi. A conclusione del podcast su Alassio, vi ricordo il mio sito web www.flaviacantini.it, dove oltre a conoscermi meglio e a scoprire i servizi di scrittura professionale che offro con esperienza verticale nel turismo. Potrete trovare la sezione Liguria nel cuore blog, dove leggere gli articoli che dedico alla mia regione, corredati da immagini scattate da me durante i miei viaggi alla scoperta e riscoperta della Liguria, e inoltre vi ricordo sempre, per ammirare le immagini, il mio canale Instagram Glemm Liguria.